cari colleghi e colleghe buonasera ci risentiamo magari magari superfluo questo video però ho pensato di farlo giusto per un breve riassunto anche se sapete che io non riesco mai ad essere breve a parte le battute oggi 13 novembre uscita la notizia che dal 15 l'emilia romagna entrerà in nello scenario di tipo 3 cosiddetta zona arancione quindi volevo fare un attimo un riassunto di cosa succede quando si entra in zona arancione e proporre un minimo di coordinamento con quanto stabilito dall'ordinanza del presidente della regione dell'altro giorno allora vado subito così non perdiamo tempo in zona arancione è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio regionale salvo i soliti motivi quindi comprovate esigenze lavorative situazioni di necessità o motivi di salute sono comunque anche consentiti gli spostamenti strettamente legati alle esigenze della didattica cioè portare ed andare a prendere i figli a scuola fondamentalmente e rimane consentito il rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza domicilio abitazione residenza sono concetti abbastanza ampli quindi attenzione a non porre dei vincoli dove il testo normativo non li pone ok mi dicono che ad esempio i carabinieri hanno chiesto a qualcuno ma tu abiti in un comune dove non hai il medico di famiglia lì non ci puoi stare insomma parliamone tenendo invece agli spostamenti beh in realtà cambia poco anzi nulla scusate in questo caso nel senso che il tragito sul territorio regionale è consentito qualora sia necessario raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni quindi se da un una zona gialla io devo passare per un arancione per andare in un'altra gialla ovviamente lo posso fare oppure mi posso spostare comunque nel caso in cui gli spostamenti siano consentiti ai sensi del decreto cioè ci siano le motivazioni che abbiamo visto prima lavoro necessità o salute è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblico privati in un comune diverso da quello di residenza domicilio abitazione salvo che per le comprovate esigenze lavorative di studio per motivi di lavoro di salute scusate per motivi di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi che non siano ovviamente sospesi e non disponibili nel comune in cui ho la residenza domicilio l'abitazione per esempio se mi trovo in un comune che non ha un esercizio commerciale che vende generi alimentari evidentemente magari di domenica evidentemente mi posso spostare un altro comune dove il negozio ci sia sono sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar ristoranti pub gelaterie pasticcerie piadinerie gastronomia sono tutte quelle che volete ovviamente sempre ad esclusione delle mense con cutting ring del catering continuativo vabbè quelle lasciamole stare a rimane consentita la sola ristorazione con la consegna a domicilio quindi consegna a domicilio oppure ristorazione con asporto fino fino alle 22 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze quindi tutto chiuso quello che è attività di ristorazione se non per possibile se non per asporto o per consegna a domicilio asporto fino alle 22 consegna a domicilio non ci sono problemi ok rimangono aperti soliti esercizi di somministrazione nelle art di servizio queste cose qui sappiamo già per cui vediamo invece cosa cambia o meglio come va integrato con l'ordinanza regionale del 12 di novembre che entrerà in vigore domani 14 di novembre vabbè intanto segnalo una contraddizione che non avevo evidenziato nel video precedente che l'ho dedicato a questa ordinanza questa ordinanza per esempio dice che è possibile abbassare momentaneamente la mascherina per fumare oppure per consumare cibo e bevande o bevande e è possibile in questo caso solo mantenendo la distanza minima di un metro peccato che in realtà al punto a 9 la stessa ordinanza dica che è vietata la consumazione di alimenti e bevande all'aperto su area pubblica o aperto al pubblico salvo che nelle sedute ok vabbè quindi c'è un po di contraddizione ok a meno che non fosse da interpretare che salvo quando si fanno le consumazioni sedute al bar come era possibile secondo questa ordinanza che adesso vedremo invece non sarà più possibile ma anche lì era una ripetizione assolutamente inutile perché non si sapeva già questo quindi ancora una volta scopriamo che queste ordinanze sono scritte non sempre in maniera probabilmente la fretta è cattiva consigliera diciamola così allora ribadiamo che l'accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito per una sola persona per nucleo familiare a meno che non debba accompagnare persone non autosufficienti o con difficoltà motorie o inferiore ai 14 anni rimane tutta la questione del divieto su area pubblico privata e dei mercati quindi commercio su area pubbliche a meno che non sia stato adottato il piano con tutte quelle condizioni che abbiamo già visto nell'ordinanza quello che viene tra virgolette spazzato via purtroppo dall'ingresso nella zona arancione era la possibilità di effettuare l'attività di somministrazione dalle 15 alle 18 se ricordate appunto l'ordinanza diceva dalle 15 alle 18 si può fare consumazione su posti a sedere purché regolarmente collocati all'interno o all'esterno dei locali questo non è più possibile solo abbiamo detto asporto o solo consegna a domicilio direi che questa è fondamentalmente fondamentalmente la grossa novità poi ribadisco l'ordinanza dice che è vietata la consumazione di alimenti e bevande all'aperto su area pubblica o aperta al pubblico poi diceva salvo sulle sedute degli esercizi ribadisco questa parte qui salta quindi rimane vietata la consumazione di alimenti e bevande all'aperto su area pubblica o aperta al pubblico mi raccomando non andiamo a cercarci problemi dove non ce ne sono se una persona ha la borraccia la bottiglia dell'acqua e si beve un sorso usiamo il cosiddetto buonsenso ok cioè chi è da punire è chi commette delle violazioni cioè chi ha intenzione di creare problemi alla salute pubblica se io trovo una persona da sola che si sta bevendo una bottiglietta d'acqua tra l'altro considerate tutte le patologie che esistono tutti i problemi che ci sono ok è chiaro che se si beve una birra la questione è molto diversa non ho bisogno di aggiungere altro insomma lo sapete meglio di me rimane inalterato quello che ci eravamo detti giorni festivi e prefestivi grandi e medie strutture di vendita chiuse ovunque localizzate quindi che siano all'interno di centri commerciali che non siano all'interno di centri commerciali che facciano parte di aree commerciali integrate o di poli funzionali vanno chiuse tutte almeno che non vendano generi alimentari e mi sono consultato con autorevoli colleghi cibo per animali rientra dei prodotti alimentari ovviamente per animali quindi hanno anche loro a mio parere non solo mia ma insomma a mio parere possono possono restare aperti farmacie parafarmacie tabaccherie ed ed elicola mi hanno anche chiesto per esempio posteggi isolati posteggi isolati essendo isolati quindi non facendo parte del mercato ovviamente se vendono generi alimentari a mio parere lo possono fare ovviamente con tutte le cautele del caso cioè a dire rispettando i protocolli previsti per questo tipo di attività è chiaro che devono essere isolati nel senso che se c'è un mercato il mercato è possibile solo alle condizioni che abbiamo visto va bene insomma non sto a ripetermi altro niente buon lavoro a tutti buona serata a tutti buona domenica a tutti e alla prossima